Un bel calendario che mantiene robustite le grandi storiche manifestazioni culturali di questa città e al contempo innova moltissimo l'offerta aumentando tanti tipi di culture, di linguaggi culturali, di musica, di spettacolo per andare incontro alle tante e diverse passioni culturali di questa città. Un calendario che tiene conto e dà possibilità di esprimersi ai tanti talenti di questa città e contemporaneamente ospita in città tanti nomi italiani e internazionali per alimentare la cultura di questa città con tante belle idee e iniziative. Avremo tantissime manifestazioni a partire dalle notte bianche che raddoppiano, l'anno scorso ne erano due, quest'anno ne saranno cinque, tre dedicate allo shopping, poi ci sarà la notte bianca dell'Adriatico il 14 agosto, la notte di Ferragosto che punta a portare tantissime persone anche il 15 agosto nella nostra città e poi l'animazione in tutti i quartieri, il programma di eventi a Pescara Vecchia, la valorizzazione turistica delle festività religiose con la prima che partirà ai Colli con Alessio Bernabè e i gemelli diversi, poi avremo James Enese e Napoli Centrale per la festa di San Cetteo e un grande concerto anche per la festa di Sant'Andrea. Insomma avremo tantissimi eventi per un'estate che si annuncia davvero importante nella nostra città per superare i numeri dello scorso anno. Già sono partiti i primi eventi sportivi della città, adesso abbiamo un mese di giugno, luglio e settembre, ricco di eventi, avremo i campionati italiani di atletica leggera, gli assoluti italiani la seconda settimana di settembre, fra qualche giorno avremo Ironman il 10 di giugno, l'8-10 di giugno la città sarà tutta impegnata per questo grande evento, avremo tornei di beach volley, tornei di basket, insomma diciamo che a Pescara c'è un grande fermento dal punto di vista sportivo e questi sono i mesi dove naturalmente questo diventa molto più importante.